I temi all'ordine del giorno per il prossimo anno sono il terrorismo, l'immigrazione, la crescita economica, la politica sociale, il lavoro, il cambiamento climatico, l'agenda digitale e i temi energetici, oltre naturalmente la difesa dei nostri valori. Voglio dedicare questa giornata, come ho detto in aula, ai miei concittadini italiani che sono stati vittime del terremoto. A loro deve andare un pensiero da parte di tutto il Parlamento, perché stanno vivendo giornate difficili, fa molto freddo, non possiamo dimenticarci di loro, come non possiamo dimenticarci delle vittime del terremoto, come non possiamo dimenticarci di coloro che soffrono a causa di difficoltà economiche. Penso a tanti senza tetto durante queste giornate di grande freddo, penso a coloro che non hanno lavoro, che hanno perso il lavoro.